La città è stata una splendida sera, molta gente, bella gente e mi piace molto ricordare questo fatto che la città ci ha coinvolto, tutti noi casertani, artisti più o meno da strapazzo, insomma Pierluigi ha fatto un bel lavoro, ha rimesso insieme un po' di pezzi che si erano dispersi in questi ultimissimi anni, in questi ultimissimi tempi, per cui insomma sono molto contento di esserci stato perché è stato come stare tra amici e poi sentire questi cantanti che danno l'anima come il gospel vuole, per me è stata una serata tra amici ecco, questo.